L'erba amara è un'erba aromatica balsamica antichissima Oggi ho presentato in corte uccellanda a Castellaro Lagusello Mantua l'erba amara o erba di San Pietro della famiglia della balsamita Major L'erba amara è un'erba molto antica è un'erba aromatica balsamica perenne in inverno va in letargo rispunta alla primavera se abbiamo un inverno asciutto come tutte le erbe aromatiche dobbiamo annaffiarla altrimenti si secca Ringrazio molto la Proloco di Castelgofredo Mantua ringrazia molto la città di Monzambano per questo invito importante per noi perché nonostante i nostri 24 anni di promozione abbiamo conosciuto persone bellissime ma che non conoscevano l'erba di San Pietro e noi con orgoglio gliel'abbiamo presentata